Salerno, ben arrivati, posso dirlo ufficialmente, siete la tappa più numerosa, vi faccio vedere sull'ed, guardatevi e fatevi un applauso, siete tantissimi, eccovi, siete tutti voi, grazie per essere qui, io lo so perché siete numerosi, perché quest'anno ce ne avete dati quattro, Stefano, Anna, Angelo e Grazia, grazie veramente tanto, e uno ha vinto il cuore della vincitrice, Emma! Allora, iniziamo...